Questa è Elena che prova ad andare sui pattini Non ci provare neanche perché... E adesso si ammazza, si ammazza, si ammazza Si ammazza Non ce la vanno più Dai Elena che sto riprendendo va Va a finire su Youtube eh sto video Mi dice che sto metto la pella qua Si